Ciao a tutti ragazzi bentornati su Starlet's Tube, apriamo la settimana con una bella recensione librosa, sì ho sulla maglietta di Patriota ma perché semplicemente sto cercando di riempire il mio armadio con più magliette pampling possibili perché ormai mi sono innamorata e poi comunque sia io che l'autrice in questione siamo fan della serie The Boys quindi mi è sembrata anche appropriata ma ne sto aspettando appunto un paio a tema libroso che saranno le mie magliette ufficiali sempre per i video appunto a sfondo libroso comunque discorso maglietta a parte spero che la signora in questione di cui mi accingo adesso a rivelarvi l'identità apprezzi oggi vi parlo appunto del nuovo romanzo di una delle autrici italiane più talentuose e fantastiche degli ultimi anni e che quando appunto è uscita con questo romanzo io non potevo assolutamente non leggerlo oggi vi parlo di The Rebel Effect di Monique Shishi, Monique Shishi la conoscete è l'autrice della duologia di cui vi ho parlato anzi dovrebbe essere anche scritto qui aspettate ce l'ho lì un momento a distanza che ci separa e per l'ultima volta però ho scritto anche altri libri io per adesso sono ferma ancora a quei due ma leggerò anche poi gli altri che ha scritto quando appunto mi informò che sarebbe uscita con questo romance che nell'altro avevamo l'atmosfera poliziesca qui invece abbiamo l'intrigo politico e soprattutto anche tanti altri argomenti di cui adesso mi accingo a parlarvi ma vi posso già assicurare che Monique qui ha fatto un lavoro della Madonna la trama sul libro non c'è quindi la prendo direttamente da Amazon dove appunto vi lascio il link in descrizione è l'unico posto dove potete trovare appunto questo libro perché è in self e potete trovarlo sia in cartaceo che in ebook e se avete Kindle Unlimited potrete leggerlo tranquillamente con il vostro abbonamento quindi andate nel link in descrizione per tutte le informazioni Rebel Jordan si occupa della rubrica di gossip per il Real New York il giornale gestito dal misogino Brian Tarbell quando stanca di essere ignorata dal suo capo decide di affrontarlo tra loro scoppia un'alite furiosa Rebel crede che la sua carriera sia ormai giunta al capolinea ma inaspettatamente lui la promuove affidandone un incarico di prestigio dovrà occuparsi del processo d'Hashel tuttavia mentre indaga scopre che il caso coinvolge l'unica persona che Rebel non credeva di rivedere l'uomo che gli ha spezzato il cuore e il suo mondo crolla di nuovo in frantumi Elijah Stokes è in lista per la presidenza degli Stati Uniti sta per raggiungere il suo obiettivo mantenere fede alla promessa fatta al fratello in punto di morte ma l'arresto del finanziere Dash rischia di compromettere la sua carriera per sempre è costretto a chiedere aiuto all'unica donna che sperava di non compromettere la sola questa persona che è stato costretto ad allontanare a complicare le cose il sentimento che entrambi credevano di poter controllare torna prepotente ad assediare i loro cuori tra incontri fugaci e attimi di rovente passione Elijah e Rebel si ritrovano incastrati in un gioco di potere più grande di loro Rebel, determinata, ambiziosa e impulsiva sceglierà di sacrificare la sua carriera per salvare l'uomo di cui è ancora perdutamente innamorata? Elijah riuscirà a superare i traumi del passato ad accettare che Rebel corra dei rischi solo per raggiungere il successo a cui aspira? vi dico subito che questo romanzo racchiude ben tre generi stand alone, contemporary romance e political romance quindi cosa potete volere di più dalla vita? come avrete visto la trama è tutto un programma sì ho coperto patriota ma purtroppo è il dramma delle recensioni dei libri tenerlo in mano tutto il tempo ragazzi dopo un po' aiuto però anche perché è un bel mattoncino comunque sono all'incirca, ve lo dico anche già subito 538 pagine quindi di conseguenza è un bel mattoncino ma vi dico che lo si beve come se fosse un bicchiere d'acqua perché Monique ha uno stile sempre fresco, sempre scorrevole non si perde in chiacchiere e soprattutto non appesantisce il tutto con la sua narrazione perché comunque la nostra Monique in questo romanzo ha trattato degli argomenti molto importanti come la misoginia sul lavoro perché purtroppo c'è sempre il movimento Me Too e soprattutto anche le molestie e le violenze sessuali fatte con la manipolazione psicologica diciamo di chiamiamola pure così fatte anche sul posto di lavoro quindi di conseguenza poi c'è tutto l'intrigo politico che per certi versi mi ha ricordato un po' la serie Scandal e siccome io so che Monique è una grande appassionata di serie tv non posso escludere anche se non mi ha dato conferma che abbia preso ispirazione magari guardando giusto qualche cosa così a random monedino semplicemente la trama non so, io Scandal francamente non l'ho mai guardata però so di cosa parla perché trasmettevano i tele e le pubblicità a ogni dove quindi più o meno so di cosa parla quindi ci ho visto un po' di quella serie poi magari mi sbaglio magari invece tutta un'altra serie perché comunque io e Monique abbiamo in comune che siamo entrambi affamate di serie tv e per molti generi siamo anche molto compatibili quindi di conseguenza c'è di tutto in questo romanzo ma soprattutto Monique in questo libro tratta, questa volta esce un po' dai suoi standard leggermente e ci piazza una relazione che è sì passionale ma è anche un po' tossica e questo me l'ha confermato proprio Monique perché abbiamo parlato a lungo su Whatsapp di questo, del rapporto tra Elijah e Rebel perché lei sa, lei sa perfettamente come la penso sulle relazioni tossiche dove soprattutto è lei ad annullarsi per lui però grazie a Dio Elijah non è uno psicopatico padre padrone che vuole controllare la sua vita grazie a Dio no metto già le mani avanti però i due hanno un rapporto che non è proprio sano perché da una parte abbiamo un Elijah che ne ha passate tante convive con un grande senso di colpa ed è prigioniero del suo passato e dei suoi errori e questo lo ha portato ad annullare se stesso e a crearsi quasi un personaggio che interpreta davanti alle telecamere e l'unica persona con cui può essere se stesso e l'unica persona che non può avere quindi vive un conflitto interiore mica da poco cioè anche lui comunque dovrebbe andare a parlare con qualcuno ma non importa non è comunque come gli esempi che non sto a citare perché non voglio neanche paragonarli a quest'uomo è un personaggio insomma Elijah che si può amare e odiare io personalmente sto nel mezzo perché da una parte lo capisco capisco il suo desiderio di proteggere Rebel capisco il suo senso di voler a tutti i costi fare ammenda per quello che è successo al fratello capisco tutto però da una parte dico ma figlio mio ma porca troia cioè ma alla fine della fiera bastava che tu dopo quello andavi a parlare con qualcuno che te ne fecava cioè nel senso perché devi devi tormentarti in questo modo per ciò che alla fine non è stata neanche completamente colpa tua ecco e poi perché porca di quella troia dai speranze a questa Rebel e poi però fai un passo avanti e dici indietro mi incazzavo in questi casi e poi abbiamo anche Rebel che non è perfetta assolutamente no perché anche lei comunque ha le sue colpe e questo mi piace mi piace perché Monique in questo libro in questa relazione ha messo due pesi due misure nel senso che se negli altri casi e quelle lì erano un po' delle vittime in questo caso però Rebel è consapevole però è anche sì un pochino una vittima perché una vittima nel senso buono mi spiego meglio ci provo è abbastanza complicato quindi spero di riuscirci nel modo migliore Rebel ama Elijah farebbe di tutto per lui però appunto arriva ad annullarsi per lui arriva a mettere a rischio la sua carriera la sua vita per un uomo che alla fine l'ha allontanata e che è tornato quando aveva bisogno di aiuto e no e no e io lì mi incazzo e io lì infatti mi stavo incazzando poi però ho parlato con Monique e Monique mi ha spiegato un po' l'ottica che voleva dare e che alla fine andando avanti perché io l'ho chiamata quando era ad un certo punto e mi stavo diciamo abbastanza incazzando e infatti proprio per quello che l'ho chiamata ti prego dammi delle lucidazioni perché sennò va a finire che io sto personaggio te lo devolisco spiegami dammi spiegazioni e infatti è stata così gentile da chiedermi innanzitutto di capirla e infatti ci sono riuscita ma è avanti con la lettura che arriverai a capirla e l'ho capita l'ho capita perché Rebel poi alla fine è una persona che sta semplicemente cercando di aiutare la persona che ama però molto spesso sbaglia atteggiamento nel senso che lei arriva sia ad annullarsi per Elijah arriva sì a mettere a rischio tutto per lui però allo stesso tempo questa ragazza è vittima di un amore talmente profondo e radicato nell'animo che è difficile staccarsi quindi di conseguenza non dico che è una vittima però la comprendi la comprendi perché comunque lei ama quest'uomo perché lei ha visto il vero Elijah è l'unica persona che ha visto veramente com'è quest'uomo e quindi di conseguenza lei rammenta l'uomo che ha conosciuto e che è stato con lei quindi di conseguenza poi crede fermamente negli ideali e nel programma elettorale di Elijah quindi anche questo a spingerla anche le sue motivazioni politiche quindi c'è tutto un casino dietro la psicologia di questi personaggi che se dovessi stare ad analizzarli proprio nel profondo intanto vi spoiler mi farei degli spoiler e non li voglio fare sto cercando di non farli e poi ci resterebbe una recensione di tre ore e mezza neanche Monique se la guarda una recensione di tre ore e mezza io non lo farei quindi appunto il rapporto qui è molto più complicato di quello della duologia precedente che vi ho citato prima molto più complicato molto più incasinato poi appunto come vedete abbiamo anche l'intrigo politico abbiamo il movimento appunto Me Too perché qui appunto Monique lancia un messaggio forte dal punto di vista proprio femminista e di come veramente in alcuni aspetti siamo tornati nel fottuto medioevo purtroppo le cose che Monique ha citato qui succedono porca puttana ed è un'assurdità nel 2022 quasi 2023 è un'assurdità è veramente incredibile anche a livello poi c'è anche la componente LGBT qui nel ruolo di Paul che anche lui poverino è vittima ogni tanto ancora degli stereotipi per fortuna Rebbe può contare appunto su Paul e su Cameron che sono i suoi migliori amici e poi io voglio fare una menzione onorevole per Raul la guarda del corpo di Elijah che è il protagonista morale di questa storia quindi ti prego Monique fammi una novella su di lui perché si merita un grammo di felicità poverino poi naturalmente ci saranno anche tanti altri personaggi ci sarà appunto tra com'è che si chiamava ho già dimenticato vabbè il capo di Rebel che è un misogino maschilista figlio di puttana che dovrebbero appendere per i flap abbiamo Gerard che accantono lo accantono perché no non posso dirvi niente vi lascio il piacere di volerlo appendere per i flap a voi personalmente e poi vabbè ci saranno anche Luke Holland che è un personaggio molto ambiguo qui Monique è stata veramente brava ha creato appunto questo personaggio che sta nel mezzo tra luce e ombra è veramente un personaggio che appare poco ma quel poco che appare lo fa veramente bene e quindi ragazzi è una storia veramente molto coinvolgente perché come vi ho detto Monique qui ha agglomerato tanti generi tante situazioni che ti tengono incollata alle pagine c'è l'amore c'è la passione ma c'è anche tu vuoi anche capire ma chi cazzo come cazzo ne usciranno questi due poi c'è anche comunque anche tutta la parte dell'inchiesta e qui Monique si vede che veramente è anche andata a istruirsi a informarsi comunque tutto tutto fatto molto bello tutto secondo me veramente argomentato alla perfezione quindi ragazzi ma io che altro vi devo dire è una storia bella appassionante coinvolgente profonda passionale c'è anche quel pizzico di otto che adesso io sconsiglio perché si muore infatti se sentite zzzzz ho il ventilatore perché anche se è arrivato un po' di frescura qui e me la godo finché c'è perché tra un po' hanno detto che ricomincerà il caldo io lo devo tenere acceso perché muoio c'ho anche un herpes mi sta facendo impazzire e poi c'è anche appunto una trama ben articolata e ben scritta che ti fa amare questo romanzo dalla prima all'ultima pagina quindi se amate Monique e avete amato i suoi romanzi questo lo adorerete se invece ancora non la conoscete miscredenti questo libro è perfetto per approcciarsi a lei e al suo stile quindi che altro vi devo dire andate nel link di Amazon in descrizione cliccate acquista subito e immergetevi anche voi nella storia di The Rebel Effect questa volta invece di leggervi un estratto voglio leggervi la nota di copertina diciamo chiamiamola così che Monique ha scritto in merito al caso Dashiell e la violenza sulle donne si titolò proprio così perché penso che sia importante e che vi darà l'idea del romanzo che vi troverete e soprattutto così eviterò naturalmente di farvi qualche spoiler il processo Dashiell è liberamente ispirato al famoso caso di cronaca che a partire dal 2008 coinvolse le finanziere statunitense Jeffrey Edward Spain arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni il tribunale dello stato della Florida lo condannò proprio nel 2008 per aver procurato delle ragazze minorenne ad alcuni politici dopo aver scontato 13 mesi di detenzione è stato nuovamente arrestato il 6 luglio 2019 con l'accusa federale per traffico sessuale di minori in Florida in New York vabbè mamma mia è morto a Manhattan nella sua cella il 10 agosto 2019 il medico legale stabilì che si trattò di suicidio non commento nel dicembre del 2021 l'ex compagno del finanziere rampolla dell'impero dell'editoria britannico Ghislaine Maxwell e già dal nome ti meritavi male è stata processata e ritenuta colpevole per aver facilitato le sue attività illegali mamma mia comunque non è il primo caso veramente di moglie che appoggia i mariti che fanno schifo non facciamo esempi perché sennò veramente mi bannano il caso coinvolse diverse personalità di spicco tra cui imprenditori politici un membro della famiglia reale britannica chiamate a rispondere delle loro relazioni con il noto finanziere tuttora sono in corso le indagini per cercare di fare luce sulle terribili vicende ma ad oggi non è ancora possibile avere una stima precisa di quante donne furono vittime dei traffici di Epstein ho sbagliato prima anche a pronunciare il nome dio che schifo ragazzi meno male che ci sono persone come Monica che ci portano all'attenzione questi casi se no ragazzi chiudere gli occhi e voltare la testa dall'altra parte non è la soluzione bisogna sapere bisogna essere informati l'abuso in qualsiasi forma esso si manifesti è intollerabile ognuno di noi può fare la differenza ho deciso di romanzare un fatto di cronaca non solo come spediente narrativo per raccontare una storia d'amore ma anche e soprattutto per ricordare che non dobbiamo abituarci alla violenza abbiamo il dovere di difenderci il diritto di denunciare e l'obbligo morale di non voltarci dall'altra parte e possiamo farlo anche attraverso le parole con questo libro voglio ringraziare tutti coloro che ogni giorno si adoperano affinché certe cose non accadano più per questo ho preferito leggervi questo messaggio di Monica piuttosto che un estratto perché ragazzi è questo l'intento che Monica vuole fare con questa storia non voleva soltanto raccontarci la storia d'amore tra Rebelle e Delage anche perché vi dico la verità la storia d'amore passa quasi in secondo piano la cosa importante è il messaggio che questo libro vuole trasmettere ovvero che dobbiamo dire basta basta alle violenze basta agli abusi basta alla misoginia cazzo siamo nel 2022 puttana bastarda ma la vogliamo una ragazza deve essere libera di potersi vestire come vuole di poter fare quello che vuole senza il rischio di trovarsi nei mani addosso di una persona non voluta porca di quella puttana quindi è per questo anche che ho preferito leggervi questo messaggio perché credo che Monica abbia colto perfettamente nel segno e secondo me con questo romanzo è riuscita appieno a lanciare questo messaggio basta 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 perché noi donne e questo lo dico io in opinione personale ne abbiamo pieni i coglioni quindi grazie Monica che con la tua storia hai dato ancora diciamo visibilità a un argomento che sta tornando adesso purtroppo diciamo purtroppo sulla cresta dell'onda e anche per averci ricordato che non dobbiamo mai stare zitte e voltarci dall'altra parte e chiudere gli occhi e soprattutto se ci molestano o quant'altro bisogna parlare avere il coraggio di denunciare perché ragazze io mi rivolgo a tutte quelle anzi spero che tra i miei spettatori francamente non ce ne siano ma se ci sono ragazze se subite un abuso o quant'altro non è colpa vostra denunciate chi vi fa del male e fate in modo che venga sbattuto in una cella di un metro per due a calci nelle palle bene anche questa recensione si conclude qui io spero che vi sia piaciuta e che sia piaciuta soprattutto a Monica vi lascio il suo Instagram in descrizione dove potete trovare tante cose inerenti appunto alle sue uscite i suoi romanzi e tanto altro ancora come sempre vi ricordo che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale soprattutto seguirmi su Instagram link in descrizione in descrizione troverete anche il link per seguirmi su TikTok quindi seguitemi anche lì se volete sostenermi con una donazione mi raccomando trovate un link in descrizione e il tasto super grazie dove potete lasciarvi anche un messaggio personalizzato se decidete di farlo ma soprattutto ricordatevi di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi assolutamente nessun nuovo video come sempre poi vi ricordo che se amate The Walking Dead in descrizione trovate i link delle pagine Facebook Cale l'Italia e The Walking Dead Ita Family due pagine italiane super informate e appassionate della serie su Cale l'Italia ormai sono una presenza fissa nelle live ultimamente ne abbiamo fatta una inerente al trailer e al panel del Comic Con potete trovare davvero tantissime cose dalle news, agli aggiornamenti alle immagini alle analisi e tutto quanto The Walking Ita Family invece è una pagina con cui collaboriamo super informata su tutto l'universo della serie e spin off compresi dove potete trovare anche lì di tutto dalle analisi dagli aggiornamenti le curiosità le immagini di meme divertenti e che più ne ha più ne metta insomma ragazzi se amate The Walking Dead seguite queste due splendide pagine Facebook se questa recensione vi è piaciuta abbiatemi un bel pollice e fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate mi raccomando ragazzi commentate commentate tanto che aiutate l'algoritmo a far salire il video a mantenerlo sempre nella home per le visualizzazioni così mi sostenete anche in questo caso fatemi sapere se conoscete Monique se avete già letto questo libro cosa ne pensate se vi è piaciuto se non vi è piaciuto educatamente perché non vi è piaciuto se vi ho incuriosito e lo leggerete se questi argomenti stanno a cuore anche a voi insomma ragazzi mi raccomando fatevi sentire nei commenti in tantissimi io vi aspetto vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti